Come nascono le rivoluzioni? Se noi sapessimo rispondere a questa domanda probabilmente avremo anche il modo di evitarle. Naturalmente non c'è una risposta univoca. Gli storici si affanno da sempre a cercare di comprendere come siano possibili questi fenomeni di espressione spesso anche molto violenta e sanguinosa che si manifestano nelle società umane e che poi a un certo punto si spengono o che producono degli altri equilibri. Nel caso della rivoluzione francese, che è sicuramente l'evento capitale dell'inizio della storia contemporanea, ci troviamo di fronte al solito grande tema di quelle che potremmo chiamare le ragioni remote e le invece le cause efficienti. Le regioni remote stanno paradossalmente in una ripresa economica della Francia. La Francia è un paese che nel Settecento è in piena crescita, anche demografica, che ha anche un'attività manifatturiera significativa e che paradossalmente però ha un'amministrazione statale accentrata, particolarmente inefficiente perché non riesce più a andare col passo al passo di quella che è l'economia che sta crescendo. A volte succede nella storia che accada questo e in questo caso il sovrano e i suoi ministri fanno fatica a intercettare quella che è, diciamo, la volontà o le aspirazioni di una parte consistente di questi imprenditori o semplicemente mercanti o produttori francesi. Dall'altra parte ci troviamo di fronte a delle annate agricole che vanno male nel contingente e che quindi producono delle espressioni di protesta come è naturale che avvenga nelle società agrarie e poi ci troviamo di fronte a un altro fenomeno di lungo periodo che è quello dell'illuminismo e cioè del tentativo di costruire un nuovo sistema di valori e di culture che naturalmente prevede che all'individuo siano riconosciuti determinati diritti fondamentali e che al sovrano sia in qualche modo imposto di non esercitare più un potere assoluto. L'insieme di queste tre cose più il contesto parigino nello specifico che è dato dal fatto che il sovrano giovane Luigi XVI convochi gli stati generali che non erano più stati convocati dal 1614 per fare che cosa? Sostanzialmente per risolvere il problema finanziario dello Stato provochi questa convocazione una esplosione di un fermento di reazione politica assolutamente imprevedibile. E qual è il contesto in cui ciò avviene? È un contesto nel quale il re vorrebbe mantenere naturalmente la sua mano ferma sul sistema francese dello Stato e dall'altra parte soprattutto il cosiddetto terzo Stato e cioè la borghesia e in quel caso anche gli artigiani e i ceti popolari che invece vorrebbero riconosciuto finalmente un peso nella vita della Francia nuova. E qui vediamo che la rivoluzione francese che scoppia a Parigi nel luglio del 1789 in realtà non è un blocco unico. Dentro questa rivoluzione che dura all'incirca dieci anni praticamente fino a quello che sarà poi il colpo di Stato di Napoleone Bonaparte ci sono in realtà tre rivoluzioni. La prima rivoluzione è quella che porta a una sorta di monarchia alla francese cioè una divisione dei poteri fra il sovrano e i rappresentanti del popolo che prende corpo con la Costituzione del 1791. Solo che il sovrano non rispetta i patti e quindi si crea dentro questa società che sembrava pacificata. Ormai la Francia aveva raggiunto quello che aveva conseguito nel secolo precedente l'Inghilterra non c'era più bisogno di fare altro. Ebbene quando il re prende le distanze da ciò che aveva consentito si realizzasse fino a poco tempo prima scoppia un'altra forma di reazione che spinge il mondo rivoluzionario all'interno della Francia a fare una scelta più radicale e questa scelta radicale è quella di dar vita alla Repubblica e di tagliare la testa al re e alla regina cosa che succede all'inizio del 1793. La Repubblica è l'espressione di una rivoluzione che potremmo chiamare nazionale e insieme democratica. Se la rivoluzione prima maniera era stata una rivoluzione costituzionale cioè per avere una sorta di riorganizzazione dei poteri all'interno della monarchia la rivoluzione del 1792-93 è una rivoluzione invece di tipo democratico nazionale. È la nazione che prende direttamente il sopravvento attraverso i suoi rappresentanti naturalmente in forme retoriche e in forme anche molto conflittuali. E poi abbiamo una terza rivoluzione che è quella che si instaura di lì a pochi mesi quando scoppia anche una guerra con i paesi, le monarchie confinanti, che è la rivoluzione del terrore, cioè la componente più estremista di questo mondo nazionale democratico repubblicano, la quale cerca di forzare i tempi per una rivoluzione sociale, cioè per una sorta di realizzazione non solo della libertà, non solo della fraternità, che è il secondo motto della rivoluzione francese, ma anche dell'eguaglianza. Un'eguaglianza che non è più solo quella dei cittadini di fronte alla legge, cosa che era stata affermata nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino a Parigi fin dall'agosto del 1789, ma deve essere anche una uguaglianza più sostanziale che viene realizzata attraverso naturalmente il prelivo fiscale e attraverso una sorta di riconoscimento di diritti dal punto di vista del lavoro anche alla componente più popolare e artigiana. Quindi vediamo che nella rivoluzione francese ci sono già in nuce, come in una specie di piccola sfera di cristallo, quelle che saranno le tre grandi rivoluzioni del XIX e del XX secolo, la rivoluzione a sfondo costituzionale, la rivoluzione a sfondo nazionale e la rivoluzione a sfondo sociale. Questo accompagnerà la storia d'Europa fino al 1917 e questo è il motivo per cui la rivoluzione francese non è una remota anticipazione del XVIII secolo, ma è in realtà la prima sperimentazione di quella che sarà la storia d'Europa dei due secoli a venire.